È un tema sul tavolo delle istituzioni e quindi anche sul tavolo della prefettura che direi con una cadenza pressoché giornaliera, a modo di confrontarsi con gli aspetti legati alla marginalità sociale e quindi di conseguenza al precariato. L'esigenza di tenere sempre un focus e un'attenzione su argomenti che oggi vengono portati qui dalla UIL è un'esigenza pienamente condivisa dalla mia istituzione. Sapete quanti sono i tavoli e le occasioni su cui abbiamo focalizzato l'attenzione. Indubbiamente alcuni settori, in particolare quello dell'agricoltura e una marginalità sociale che coinvolge, direi nello specifico, categorie particolari. Iniziamo a prendere posto, i giovani, che coinvolge in modo particolare anche le donne e le appartenenze etiche. Su questi tre aspetti focalizzerei l'attenzione come d'altro canto vi hanno fatto, ripeto, pressoché quotidianamente anche sui tavoli della prefettura.